Sindaco Sicilia, il territorio degli Alburni negli ultimi mesi è stato duramente messo alla prova. Roscigno con la frana, Sacco con la caduta Massi dal costone roccioso e la viabilità completamente compromessa. Il 18 c'è stato un incontro con la Commissione Ambiente a Napoli promossa dall'onorevole Pica. Lei ha partecipato, cosa è venuto fuori da questo incontro? Diciamo che la situazione è drammatica, non solo sul nostro territorio ma anche a livello regionale. Quello che è uscito dall'incontro che abbiamo avuto con il Presidente della Commissione Ambiente regionale e anche con la presenza dell'assessore ai lavori pubblici Cosenza. La situazione è drammatica e dall'incontro praticamente noi abbiamo evidenziato, manifestato qual era il grosso disagio. C'è un momento di grande difficoltà, anzi direi non con mezzi termini, di catastrofe vera e propria non solo in termini fisici per quello che è successo sul territorio ma per il grande disagio che sta vivendo questo territorio, queste comunità. Il problema non è semplice da risolvere, per il motivo che la portata dell'evento è grande, enorme e credo che sia il Governo centrale, sia quello regionale, è accaduta poi anche gli enti locali in questo momento sono impreparati a poter far fronte a questa grande difficoltà. Bene, però dall'incontro l'assessore ha avuto modo di mettere in evidenza il percorso che vuole portare avanti per far fronte alla problematica. Cioè partire prima a voler togliere il disagio per chi ancora non ha l'acqua in casa per le rotture delle rete idriche che purtroppo sono state danneggiate dal fenomeno così come pure il problema relativo agli argini dei fiumi che sono ceduti e chiaramente è necessario dover intervenire per evitare poi che con il verificarsi di un nuovo evento potesse portare nuovi problemi e nuovi quindi danni. Chiaramente poi intervenire con la viabilità. Ma per fare questo chiaramente è necessario avere risorse a disposizione che in questo momento sembra che purtroppo non ci siano. Ecco l'impreparazione del Governo centrale, regionale e così via. Lei però ha fatto una proposta in Commissione. Esattamente. Io questo ho detto. Bene, le risorse possono essere reperite. Cioè in questo momento credo che sia necessario di avere priorità soprattutto alla manutenzione. Perché? Perché in 50 anni credo che abbiamo pensato a fare solo nuove opere e nuovi investimenti lasciando a sé tutto quello che era stato fatto nel tempo. A questo peso è aggiunto il problema della mancata presenza dell'uomo sul territorio soprattutto nelle zone interne. Questi due binomi chiaramente hanno comportato di poter accentuare in modo determinante quello che è accaduto. E allora la mia proposta è stata questa. In questo momento credo che la politica debba dare attenzione forte a spostare le risorse dai nuovi investimenti alla manutenzione. Perché è quello che in questo momento serve. Serve gestire il territorio nel modo opportuno per poter evitare che in futuro potremmo trovarci di nuovo in questa situazione di grande difficoltà. È l'unico modo per poter fronteggiare. Perché l'impreparazione c'è e quindi è per poterla, come dire, azzerare questa impreparazione soltanto con risorse. Le risorse che devono essere spostate. Perché il tempo per i nuovi investimenti ci potrà essere. E questa situazione, paradossalmente, ci verrebbe anche a favore in termini di problematiche economiche e finanziarie che sta vivendo la nostra nazione. Cioè nel senso che spostando le risorse sulle manutenzioni di fatti andiamo a innescare anche un nuovo fenomeno positivo in termini economici. Perché le piccole risorse sono immediatamente riportate nel mercato. Quindi tornano subito e possono portare grossi benefici in termini economici. Quindi credo che questa è la proposta che ho fatto. Spero che possa trovare accoglimento. Perché è l'unico modo per poter venire fuori da quello che è successo. Per fortuna non ci sono soltanto momenti difficili da superare, ma anche buone notizie da dare. A Corleto il 12 sarà inaugurato uno sportello immigrato e ci sarà poi un convegno. Ci parli un po' di questo evento che andrete a fare? Credo che questo momento è legato alla problematica che stiamo avendo, lo spopolamento, quindi la mancata presente del presidio del territorio e quindi con le conseguenze di quello che è successo. E allora noi stiamo cercando di cogliere l'opportunità della presenza di queste persone che credo che in certo senso stanno comunque dando una grossa mana anche in termini non solo fisici ma anche economici alla nostra nazione. Ebbene, l'immigrato credo che per l'entroterra possa rappresentare una risorsa. Una risorsa che deve essere saputa gestire e allora attraverso lo sportello vogliamo dare un servizio a queste persone che sono venute nel nostro territorio per cercarli di dargli la possibilità di potersi muovere in modo migliore e quindi poter capire come poter vivere nel modo migliore nella nostra nazione. Grazie. 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 Grazie.